Dunque, una brevissima presentazione di chi è seduto a questo tavolo. Certamente loro hanno bisogno meno di me di essere presentati e vi dico due cose. Molto rapidamente poi entriamo con l'ordine degli interventi che abbiamo concordato. Padre Corzo, Cosè Luis Corzo, è padre scolopio e docente di teologia della parola. Questo nome dell'insegnamento è veramente carino, ma vorrei dire di più, è denso di significato. Dal 1971 prova a rendere concrete le esperienze educative nello spirito di Don Milani. E vedremo poi come articolerà i suoi interventi. Federico Ruozzi è uno dei curatori dell'Opera Omnia che stasera viene presentata. Insegna storia del cristianesimo all'Università di Modena e Reggio Emilia ed è ricercatore della Fondazione per le Scienze Religiose. Io sì, sono assessore all'istruzione e formazione del Comune di Bergamo. Io sono qui indegnamente nel senso che non sono certamente un'esperta di Don Milani, che è una figura che ho conosciuto nel mio percorso di formazione tardivo. Io ho una formazione tecnica, sono un architetto, ma ad un certo punto della mia vita, dopo il quarto figlio, ho capito che mi sarebbe piaciuto studiare pedagogia, quindi ho ricominciato a studiare. Ho studiato Scienze dell'Educazione, in realtà, quindi una laurea triennale. Ma questa esperienza mi ha portato poi ad insegnare, ad abilitarmi per l'insegnamento, ad insegnare un po', per un po' di tempo. E quindi a capire, dopo vent'anni che facevo tutt'altro lavoro e che facevo la mamma a tempo pieno, che forse la mia strada poteva essere diversa. Questo itinerario mi ha portato fino ad un impegno, che è quello che mi consente di guardare al mondo educativo di questa città da un punto di vista privilegiato. Allora, da questo punto di vista io adesso mi metto in ascolto e magari riprendiamo insieme alcuni temi, alcune domande che vorrete insieme a me porre ai nostri relatori alla fine dei loro interventi. Quindi comincerei lasciando la parola a Federico Ruopzi. Prima di iniziare ci è deciso di far vedere un paio di minuti del documentario che avevamo fatto per Istoria a giugno, appunto una biografia di Don Lorenzo Milani. Così ci introduce un po' ai temi che affronteremo insieme questa sera. L'anno del 18 aprile, mentre l'Italia si prepara a eleggere le prime camere repubblicane e il duello fra democrazia cristiana e fronte popolare spacca il paese, Mi non si inventa mansioni, ma esegue. Il preposto gli dà come compito quello di far lezione integrativa ad alcune classi, dalla terza alla sesta, e Mi lo fa. Fra Calenzano è chiusa, dove segue una pluriclasse, l'inesemplare scolaro milanese si sperimenta maestro, non per vocazione. Partendo dall'esercizio classico dei pensierini, costruisce per ritagli e incollature un testo filato, nella fattispecie una vita di Gesù, che il senno di poi farebbe ritenere una premonizione della scrittura collettiva. I ragazzi, Mi lo scopre presto, trovano lavoro se muniti della raccomandazione del prete che li garantisce come anticomunisti. E Mi, che si è appena inventato insegnante, adesso impara anche questo. Una scuola può essere lo strumento che, anziché educare un assoluto di coscienza di sé, garantisce la perpetuità del rapporto sfruttati-sfruttatori. Il che fare milaniano ha un esito prevedibile. Scrivere. La penna è la sua, la forma incerta. Un articolo lettera. Franco, perdonaci tutti, comunisti, industriali, preti, indirizzato alla vittima beneficiata dalla raccomandazione. Un gioiello stilistico in cerca di una sede che non appaia autoassolutoria. E in quella Italia c'è solo un organo di stampa su cui un prete possa dire senza censure e senza ipocrisie cose di quel genere. La rivista di Don Mazzolari. Adesso. Il fratello industriale è stato gentile con me. Ha detto alla sorella d'attilografa di far la schedina al mio figliolo Franco. Io devo essere grato al fratello industriale. Ma poi è successa una cosa triste. Mentre mi alzavo per andar via, avevo aggiunto «Le farò fare una lettera anche dall'officina dove Franco ha lavorato finora per dirle quel che sa fare». Il fratello industriale mi ha steso la mano con un sorriso d'intesa. «Non importa, reverendo, se me lo raccomanda lei non sarà certo un comunista. Perché non ho ritirato la mano, signore? Come ho fatto a non capire subito che quella mano e quell'occhiata e quella parola erano uno sputo sul mio sacerdozio, che è il tuo sacerdozio, signore?» Prima di iniziare volevo fare qualche premessa, giusto così, per rendere più chiaro il tutto. Avete sentito effettivamente riferirsi a Milani con una lettera che è mi, la mi greca. Perché se appunto chi ha la pazienza e la voglia di leggersi, di comprarsi i meridiani, di leggersi l'introduzione di Alberto Melloni, che è il direttore un po' dell'Opera Omnia, lui fa questa scelta molto così anche coraggiosa, ovvero quella di non usare mai, di non chiamare mai Lorenzo Milani, Lorenzo Milani. Perché, poi lo spiegherà, ma insomma vi anticipo un po', l'idea era quella che la figura di Lorenzo Milani in questi anni è stata citata, abusata, usata, sproposito e quindi chiamarlo Don Lorenzo era forse troppo, chiamarlo appunto Lorenzo Milani o Lorenzo, come fa la mamma, era troppo amorevolmente appunto usare o abusare un termine che appunto con cui la mamma Alice chiamava Lorenzo, chiamarlo il priore era appunto che è il termine con cui lo chiamano magari alcuni suoi allievi, era, significava entrare in una sfera anche quella un po' troppo simitariale, quindi l'idea è quella di toglierlo, di uscire da questo continuo abuso di citazioni e recitazioni fatte molto spesso, come vedremo, molto a sproposito e quindi usa appunto la lettera mi così per riferirsi a Lorenzo Milani. Poi volevo fare un'altra premessa appunto all'assessore che appunto ringrazio e ringrazio anche l'associazione, ringrazio per questo invito e per la presentazione che qui facciamo dell'Opera Omnia, dicendo che appunto anche il suo percorso originale, quello di architetto si tiene con Lorenzo Milani perché è una figura fondamentale che è venuta fuori nello scavo di questi anni per l'Opera Omnia, è un cugino di Lorenzo Milani che è Nathan Roger, appunto importante architetto milanese, che ebbe una grande influenza nel periodo giovanile di Lorenzo e poi chiudo le premesse e poi inizio, vorrei appunto dedicare come faccio sempre ormai da un po' di tempo queste presentazioni a Valentina Oldano che è la ragazza mia coetanea che ha curato con noi l'Opera Omnia, in particolare lei ha curato l'edizione critica di Lettera a una professoressa e che è tragicamente scomparsa a giugno, il 24 giugno ci ha lasciato a 36 anni e quindi appunto mi sono impegnato a dedicare a lei ogni presentazione che avremmo fatto in questi mesi di uscita dell'Opera Omnia. Ecco, fate queste appunto premesse, queste miei insomma primi dieci minuti, un quarto d'ora, vorrei in un qualche modo presentarvi brevemente l'Opera Omnia, il perché appunto è stata fatta l'Opera Omnia e dire qualche cosa un po' sulla sua scrittura, così da darvi qualche coordinata per approcciarsi, insomma per interpretare e leggere meglio l'Opera di Lorenzo Milani. Quello che appunto vedete qui raccolti in questi due volumi editi per la Mondadori, abbiamo raccolto in più di 3000 pagine tutto il corpus di testi di Lorenzo Milani, quindi da quello che è il suo unico libro firmato da lui, che è Esperienze Pastorali, uscito nel 58 e poi ritirato dal Sant'Uffizio con il divieto di traduzione nel dicembre del 58, fino a l'Opera più celebre, che è quella frutto della scrittura collettiva, a lettera a una professoressa, scritto con i suoi ragazzi a Barbiana. Abbiamo raccolto però anche tanti altri testi, ovvero gli articoli, quelli che lui scrive da giovane sacerdote dal 48-49 poi e che pubblica su alcune riviste e che è il modo in cui lui diventa pubblico, cioè il modo in cui inizia in un qualche modo a fare la comparsa sulla scena pubblica, nel dibattito, a imporsi un po' con alcune tematiche, che come vedremo poi sono tutte tematiche incentrate su un problema che lui vede e che fronteggia da sacerdote ma anche come persona, ovvero il problema dell'acqua, il problema della casa, il problema del lavoro. Il suo modo di reagire è quello appunto in questi anni di scrivere, scrive degli articoli. Poi però abbiamo raccolto anche tante altre cose, ovvero testi minori, per esempio le interviste o le conferenze che lui fa, delle poesie, oppure dei temi, abbiamo trovato anche dei temi di quando lui era un ragazzo di quarta elementare e scrive appunto questo suo tema sul suo compagno di banco che è molto interessante però per vedere l'occhio di un ragazzo che come vedremo poi magari nel mio successivo intervento viene da una famiglia non qualunque ma anzi cresce in un importante ambiente culturale che io credo sarà poi fondamentale per permettergli di fare tutto quello che poi farà da sacerdote. E poi abbiamo raccolto anche tutte le lettere, le lettere private, sono più di mille e cento, tra cui un centinaio inedite, che chiaramente sono importanti perché permettono attraverso la lettura di queste lettere, che è una scrittura chiaramente non pubblica ma privata, di vedere magari quello che gli capita, quello che gli succede, quello che vive, da un'angolatura diversa rispetto magari alla scrittura pubblica degli articoli, agli interventi che fa. È una scrittura privata, una scrittura quindi molto interessante perché il fatto poi di avere inserito Don Lorenzo Milani nella colonna dei meridiani è certamente per riconoscergli un'importanza certamente da educatore come la pedagogia in questi decenni ha ben mostrato, l'importanza del suo ministero sacerdotale pastorale, ma certamente anche, e questa è la collana dei meridiani lo testimonia, anche il valore della scrittura, cioè il Don Lorenzo Milani scrittore. Se noi ci leggiamo le lettere e tutti i testi effettivamente riusciamo a cogliere anche una penna che secondo me lo posiziona non a torto tra i grandi scrittori del Novecento, al pari di un Pasolini o di un qualsiasi altro scrittore che appunto tutti noi abbiamo letto. Ecco, quindi questa è un po' la sintesi di quello che voi trovate nell'Opera Omnia. Assieme a questo appunto altri testi minori e qui abbiamo Corzo che appunto ha curato l'edizione del Catechismo che è fondamentalmente il suo primo testo, poi lo disconoscerà, lo cercherà di dimenticarlo, di distruggerlo ma fortunatamente alcune copie sono state salvate, qui possiamo presentarvi anche questa è un'edizione critica, uno dei suoi primi testi che sperimenta con i suoi ragazzi la tecnica così in fieri della scrittura collettiva. L'altra cosa, e poi chiudo questa breve descrizione, sono le conferenze e le interviste che lui ha fatto e che noi abbiamo sbobinato perché abbiamo raccolto appunto le registrazioni originali e le abbiamo sbobinate, quindi questi testi magari erano stati pubblicati nel corso del tempo, ma erano stati magari tagliati, edulcorati, pubblicati male, quindi li abbiamo riportati tutti alla loro edizione originale e anche questi sono testi importanti perché ci permettono anche qui di vedere da angolature diverse i temi che poi appunto e le battaglie che fa pubblicamente, per esempio con la lettera ai giudici o con la lettera ai cappellani militari. Queste conferenze magari che fa o queste lezioni che fa nel 65 a dei ragazzi, a una scuola di giornalismo che va a Barbiana a trovarlo, oppure la lezione sul ballo che fa a queste ragazze, ecco ci permette di in un qualche modo approfondire alcuni temi in queste conversazioni che sono colloquiali, il che quindi emergono in maniera più chiara le sue posizioni. Perché? Uno si potrebbe chiedere perché la fondazione per le scienze religiose che in un qualche modo ha diretto, che è di Bologna, la fondazione è fondata da Dossetti negli anni 50, si potrebbe chiedere perché ci siamo occupati di Lorenzo Milani e non è stato fatto da uno dei centri importanti che ci sono in Toscana. La spiegazione è presto detta, nel senso che in un qualche modo noi nel tempo, dagli anni 70, abbiamo costruito quello che può essere il più importante archivio di Lorenzo Milani e non l'abbiamo scelto noi ma l'ha scelto direttamente la mamma, Alice Weiss, perché negli anni 70 la mamma, questa ebrea triestina molto intelligente, molto lungimirante, all'indomani di alcune importanti pubblicazioni di lettere, la prima raccolta di lettere degli anni 70, fatta da uno dei suoi allievi prediletti Michele Gesualdi e poi successivamente la raccolta di lettere alla mamma parziale che lei stessa dà le stampe nel 73, fa diventare Lorenzo Milani un caso editoriale, anche un caso editoriale e quindi si pone il problema di come gestire la memoria, come gestire le sue carte, chi deve in un qualche modo conservarle, chi deve studiarle e quindi lei fa questa scelta che è io credo molto lungimirante, ovvero quella di sottrarre le lettere, quelle carte, sia in un qualche modo agli allievi o a quelli che erano i suoi discepoli perché non li dà per esempio a loro, ma soprattutto anche di sottrarli alla famiglia stessa, cioè decide di non tenerli per sé, ma decide di cercare un istituto che avrebbe garantito in un qualche modo la conservazione di queste carte, ma soprattutto l'avrebbe poi studiata, per una serie di cose sceglie poi l'istituto per le scienze religiose, allora diretto da Alberigo, appunto noto storico della chiesa del Novecento e quindi dagli anni settanta inizia a portare le sue carte e fa un appello a tutti gli amici di far convergere chiunque avesse a disposizione materiali su Lorenzo Milani, sul figlio, quindi di non tenerselo per sé, ma di consegnarlo preservandolo, chiaramente nel tempo, noi storici riteniamo appunto è fondamentale conservare le carte perché altrimenti non abbiamo cose su cui studiare e soprattutto investe l'istituto di un compito, ovvero quello di studiare l'opera di Lorenzo Milani. Poi nel tempo l'istituto l'ha fatto, in alcuni decenni si è occupato anche di altro, per esempio del Vaticano II e poi negli anni, diciamo sul finire del 2000, nel 2008-2009, anche per merito di Corzo che è qui testimone e di un altro giornalista molto amico di Lorenzo Milani che è Giorgio Pecorini, hanno in un qualche modo fatto da pungolo all'istituto per raccogliere questa eredità e questo compito di studiare l'opera di Lorenzo Milani con l'idea di così iniziare un cantiere e portare a quella che è qui fisicamente qui sul tavolo, ovvero l'opera omnia. Perché il problema di Lorenzo Milani, se voi appunto prima volevate in un qualche modo accostarvi ai testi milaniani, era in un qualche modo molto complicato, al netto di Lettera a una professoressa che è opera celeberrima e che in un qualche modo ha monopolizzato anche il ricordo e l'opera di Lorenzo Milani. Ecco, se uno voleva accostarsi a Lettera a una professoressa certamente questo non era difficile, però Lorenzo Milani è tanto altro, appunto le lettere, quello che vi ho detto, altri testi minori e molti testi erano stati pubblicati su riviste, magari piccole, quindi andate perse, non più ritrovabili, molte lettere erano state pubblicate ma in malo modo, tagliate, con censure più o meno volute, molte interviste, le conferenze, appunto anche queste erano difficilmente reperibili, gli articoli erano quasi del tutto dimenticati e quindi, ecco, raccogliere per la prima volta l'intero corpus milaniano dà la possibilità di accedere a quello che è stata l'opera di Lorenzo Milani in maniera completa e così in un qualche modo ci si può riaccostare all'opera di Lorenzo Milani, in un qualche modo credo, con l'obiettivo principale che è quello di leggere, perché Lorenzo Milani in questi decenni è stato molto citato, è stato molto appunto così usato da politici di destra, da politici di sinistra, da Veltroni, dai leghisti, dal Movimento 5 Stelle anche ultimamente, il che diciamo questo ha provocato un cortocircuito, perché ognuno ha tirato per la tonaca, quelle parole, e ha preso dei pezzettini per in un qualche modo far tornare quello che voleva sostenere. Lo cito sempre perché è bello, è stato pubblicato un libro pochi anni fa, dopo che era stato citato questa frase da Saviano, prima in una conferenza pubblica, poi anche in televisione, questa nota celeberrima frase, ovvero a che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca, che è stata poi trasformata in una pubblicazione, citata da come frase appunto di Lorenzo Milani, la frase è molto suggestiva, è molto importante, l'unica cosa, è stato pubblicato un libro col titolo Lorenzo Milani e questa frase, l'unico problema è che questa frase Lorenzo Milani non l'ha mai detta, è una frase di Mazzolari, usata nella prefazione di Tempo di Credere e però, al di là del fatto che appunto Saviano non è uno studioso di Milani e comunque voleva far passare un concetto, quindi gli lasciamo il beneficio delle… però è sintomatico di un uso che è stato fatto negli anni, cioè di Lorenzo Milani è stato preso, sono stati presi degli slogan, è stato incastrato in slogan, I care, l'obbedienza non è più una virtù, cose che citiamo a memoria, ma che poi se andiamo a vedere, se scaviamo fino in fondo, no, vediamo che molto spesso questi contenitori sono molto vuoti, perché poi appunto Lorenzo Milani viene spesso citato, viene spesso usato, ma in realtà poi pochi lo hanno letto e pochi lo conoscono. L'opera Omnia tenta in un qualche modo di colmare questo vuoto, ovvero riproporre l'intera opera, quindi riaccostarsi ai testi, ecco magari dopo ne leggerò alcuni, riaccostarsi ai testi è fondamentale. L'altra cosa che dirò dopo, magari do la parola agli altri e poi ritorno su questo tema, è riaccostarsi anche alla figura di Lorenzo Milani, leggendo i testi di Lorenzo Milani legati alla biografia, cioè alla sua vita, cioè non sganciando, questo è un po' un errore che si fa con tutti gli autori, cioè si leggono i testi degli autori sganciandoli dalle loro personali biografie, no, ma noi non riusciamo a capire tante cose, tante frasi, tanti scritti di Lorenzo Milani se non li inquadriamo nel suo vissuto, no, in cosa voleva dire se era Barbiana, in cosa voleva dire la conversione che in un qualche modo repentina che lui ha fatto. Cosa voleva dire crescere nell'ambiente familiare in cui cresce, poi ci tornerò. Però questo mi preneva in qualche modo così enfatizzare il perché dell'opera omnia, da una parte leggere i testi e dall'altra parte non sganciarlo da quello che è il suo vissuto personale. Quindi non si può capire lettere una professoressa se non lo si comprende in quel periodo, in quello che Milani vive, non si può comprendere esperienze pastorali leggendola come testo a sé, ma dobbiamo comprendere in quello che lui vive a San Donato, il rapporto con la sua chiesa, la famiglia da cui viene, ecco, questi sono degli assi che è importante non perdere e tenere d'occhio quando si parla di Lorenzo Milani. Dicevo in un qualche modo, appunto, spesso incastriamo Lorenzo o i testi di Milani in questi slogan e questo è l'altro errore che in un qualche modo è stato fatto anche recentemente. Tutti voi saprete la polemica che in un qualche modo ha anticipato di qualche settimana all'uscita dell'opera Omnia, ovvero la pubblicazione del romanzo di Walter City, bruciare tutto. Ecco, un altro errore, secondo me, è quello di accostarsi ai testi di Lorenzo Milani leggendoli in maniera letterale, cioè prendendoli così in modo letterale, senza capire in un qualche modo invece che tipo di scrittura fa Lorenzo, che tipo di scrittura usa, come si rapporta, come parla. Sappiamo tutti la radicalità di questa sua vita, che lo ha fatto diventare, appunto, per la sua coerenza con l'Evangelo, anche a subire in qualche fase della sua vita non facile nei rapporti anche con la Curia, nei rapporti con il suo clero, nei rapporti con il suo vescovo. Ecco, secondo me occorre tenere ben presente, quando ci si accosta soprattutto alle lettere, la cifra della sua scrittura, quindi questa sua radicalità della vita, questa sua fedeltà all'Evangelo, questa sua radicalità, la si trova per forza anche nella sua scrittura. E quindi è una scrittura molto forte, molto cruda, ma alle volte anche violenta, no? È un sacerdote che, per esempio, riferendosi giustamente, dico, al suo vescovo, che gliene va fatta passare di tutti i colori, si riferisce a lui, scrivendo a un suo ragazzo, a Francuccio, dopo l'ennesimo torto che ha dovuto subire, come un deficiente indemoniato. Ora, non tutti i preti magari si esprimono, no? Così, con queste parole riferendosi al proprio vescovo. In quel caso aveva ragione. Però, ecco, questa radicalità la si trova anche nella sua scrittura. Se noi la prendiamo e la leggiamo in maniera letterale, senza comprendere il gusto invece del paradosso, no? Milani voleva in un qualche modo provocare, no? Uno delle cose che lui odiava era il rimanere indifferenti. E quindi lui, con la sua scrittura e con il suo comportamento, cercava di, appunto, di schierarsi, di prendere posizione. Quindi spingeva a prendersi posizione. Io non ci sono mai stato, ma era noto che chiunque andasse a Barbiana, o a San Donato prima, e a Barbiana, no? Nelle note conferenze o lezioni che tenevano vari studiosi o gente che, appunto, Lorenzo chiamava per parlare di vari temi ai suoi ragazzi. Ecco, era quasi una sorta di tribunale, perché venivano messi, era quasi un'inquisizione, perché, appunto, lui innescava un dibattito per, no? Far comprendere ai propri ragazzi, ai propri allievi, no? Questa precisa scelta, quella di argomentare, di capire, di fare domande, di non prendere passivamente le cose. Ecco che, appunto, lui, no? L'idea che torna sempre era quella di rendere i suoi ragazzi sovrani, no? Padroni della parola, come poi ci spiegherà a Corzo. E quindi questo suo comportamento lo si trova anche nella scrittura, una scrittura quindi paradossale, una scrittura provocatoria, violenta, ma anche molto ironica. E lui stesso lo sapeva. Poi, ben più importanti studiosi si sono accostati alla scrittura di Don Lorenzo Milani, anche Pasolini, Tuglio De Mauro, Fortini, no? Hanno analizzato, Ranchetti hanno analizzato la scrittura di Lorenzo. E Lorenzo sapeva di essere violento anche nella sua scrittura, tanto che in una lettera a un amico, a Cesare Locatelli, che poi morirà dopo qualche mese, il 26 dicembre del 49, scrive in questa lettera. Lo so che sono sempre stato un lurido sboccato, farò di tutto per smettere. Se ancora non ci sono riuscito è perché non gli ho mai dato tanta importanza. Che vuoi che quando la lotta è per stare in grazia? Che vuoi che importi quel che pensano gli altri? Scriveva. Se sono in grazia non faccio male a nessuno, neanche se mi esprimo a parolacce. E se non sono in grazia faccio sempre male a tutti, anche se parlo tutto di Gesù e Maria. E ci ritorna anche qualche anno dopo, nel 53, quando scrive ad Alberto Parigi, che è uno studioso che era stato chiamato a Barbiana per parlare dell'apologia di Socrate, no, che era stato chiamato a Sandonato per parlare dell'apologia di Socrate, nei tradizionali venerdì sera della sua scuola popolare. Egli scrive, come avrai osservato, io non misuro molto le parole, ne calcolo mai cosa convenga dire e cosa tacere. E questo fa parte di un preciso programma, cioè quello di ottenere la fiducia dei ragazzi e del popolo e educare gli uni e gli altri a fare altrettanto. Ecco, quindi è appunto volutamente una scrittura provocatoria. Quindi se noi facciamo lo sbaglio di invece prendere letteralmente, era anche toscano, quindi è un altro elemento che non va dimenticato. Ecco, se noi ci accostiamo a questi suoi testi prendendo la lettera, prendiamo dei granchi. L'altra cosa è l'ironia. Se noi non cogliamo in questi suoi testi anche l'ironia che in un qualche modo attraversa l'intera vita di Lorenzo Milani, spesso messa da parte, come si diceva anche a cena stasera, perché chiaramente la prima cosa che veniva, se avete visto, se avete letto qualcosa, una delle prime idee, o io, anch'io, mi sono fatto questa idea, che era quasi impossibile andare d'accordo con lui, cioè era molto forte, metteva a dura prova la pazienza. C'è un bellissimo libro di Adele Corradi in cui si vede che anche questa donna che ha dato la vita per la sua scuola in un qualche modo ha questi momenti di attrito con lui, ma era capace anche di profondo amore Lorenzo Milani. E quindi l'ironia in realtà è un registro che non va mai messo da parte quando ci si accosta ai testi di Lorenzo Milani. E ce ne accorgiamo fin dalle sue prime lettere alla mamma dal seminario, per esempio il 14 novembre del 43, da poco entrato in seminario, dà conto della sua esperienza, lui figlio della borghesia e dell'aristocrazia toscana, entra in seminario e quindi cambia radicalmente vita, una vita che non aveva mai toccato con mano, quindi fatta di privazioni, di mancanza, di mancanza di cibo, di mancanza di tante cose. E scrive alla mamma, con cui ha un rapporto molto particolare, no? La metà delle lettere scritte, tante lettere comunque, più di 300, sono destinate alla mamma. E dice cara mamma, spero che ti abbiano mandato la lettera dell'altro giorno. Stamani sono finiti gli esercizi, gli esercizi spirituali, i quali consistono in star zitti per quattro giorni e sentire 16 prediche. Lo stare zitti sottoscriverei a seguitarlo tutto l'anno, col vantaggio di non dire sciocchezze, ma le prediche per ora mi bastano. Con tutto questo non sono ancora riusciti a levarmi l'allegria, anzi, mi sono divertito a fare passeggiate decine di chilometri nel più vario paesaggio, come sarebbero per esempio quattro colonne, un pilastro, una curva, angolo, retto e poi invece quattro colonne, un pilastro, eccetera. Si è sempre un po' l'impressione di essere in un manicomio, però con questo vantaggio di fronte al manicomio secolare che è casa nostra, che qui, se non fosse per i miei disgraziati smodati calzoni, non c'è nessun indizio che possa far pensare in che secolo siamo né in che paese. Di fatti stiamo zitti in latino. Ecco, questa ironia, questa voglia di provocare, di non lasciare indifferente il proprio interlocutore, lo si ritrova sia nella sua personalità che nella sua scrittura. Un'ironia, tra l'altro, che non perde neanche quando è in casa della madre, nell'ultime settimane, prima di morire, morirà appunto in giugno del 67, dopo essere stato a Barbiana e ricoverato a Firenze, l'ultimo mese lo passa in casa della mamma, allettato, e appunto non riusciva più quasi a parlare e quindi scriveva, comunicava con i ragazzi e con Don Bensic e con chi lo andava a trovare, con i pochi che appunto lui accettava di ammettere in visita, scriveva su dei fogliettini, scriveva delle frasi, delle frasi minime che appunto ritrovate anche queste chiaramente nell'Opera Omnia. E in una, appunto, in uno dei suoi ultimi bigliettini a Don Bensic, che è il suo padre spirituale, diciamo la figura, una delle figure più importanti nella vita di Lorenzo Milani da sacerdote poi, gli scrive in uno di questi bigliettini, caro Don Bensic, perché mi prende in giro della mia morte super organizzata, non le piace forse? Ecco, dopo qualche giorno morirà. Quindi è un'ironia che comunque non perde neanche quando è quasi in fin di vita. Ecco, e qui chiudo. Quando ci accostiamo a questi testi dobbiamo capire la personalità di Lorenzo e che tipo di personalità aveva e che tipo quindi di scrittura, no? Altrimenti ci lasciamo prendere dalle parolacce, dalle affermazioni crude, forti, che in un qualche modo magari alle volte sono state anche tolte dalle lettere nelle pubblicazioni precedenti perché non stava bene o si cercava in un qualche modo di edulcorare o di dare un'immagine positiva, mentre invece dobbiamo cogliere, secondo me non si coglie appieno la figura di un Lorenzo Milani se gli togliamo questo, perché Lorenzo Milani è tutto questo e questo non sminuisce, anzi arricchisce l'opera di Lorenzo Milani, è anche contraddittorio come protagonista, ma questo è normale nell'essere umano, no? Quindi l'opera Omnia ripristina anche l'originalità di questi testi proprio perché è una figura che va presa tutto d'un pezzo senza lasciarsi intimorire dalle affermazioni forti, per esempio in una delle classiche cose che era stata tolta e poi rimessa era per esempio quando lui mantiene questo registro dell'ironia anche con i suoi superiori, non solo con la mamma, per esempio in una lettera che scrive a Bartoletti, suo professore al seminario e poi anche questa figura importante nella sua vita, gli scrive a lei la fanno vescovo in odore di santità, a me mi fanno per iore di barbiani in odore di finocchio, che era una delle accuse solite che ricorrono ai preti e già che girava nell'ambiente di San Donato per screditarlo, lui lo sa e reagisce così in questa lettera, ecco, per comprendere secondo me Lorenzo Milani non dobbiamo avere paura e accostarsi in maniera completa ai suoi testi, alla sua scrittura, alla sua forza, alla sua violenza, alle sue contraddizioni e a tutto questo. Io mi fermerei qui e lascerei la parola agli altri per poi riprendere magari altre cose dopo. Grazie. Grazie Federico. Io in questo momento non riprenderei nessun tema specifico, ma sullo sfondo tratteggiato da Federico, quindi biografia, opera, scrittura di Lorenzo Milani, chiederei a Padre Corzo di fare l'approfondimento che ha preparato. Bene, in Spagna fare una conferenza dopo cena soltanto in manicomio e in quei manicomi che si alzano tardi perché se no non c'è tempo di riprendersi, però capito che qui non avete due ore, una franchista e un'altra europea in anticipo al sole come abbiamo in Spagna, che io sono sempre arrabbiatissimo per questa storia che quando il nostro orologio dice che sono le undici in realtà sono le nove e allora siamo sempre confusi e sempre a mangiare, a pinciare perché occorre trattenere lo stomaco che tutto è tardi in Spagna. Buonasera, grazie di essere presenti. Devo dire che in un ultimo momento, un giorno, dopo aver lavorato molto con Federico Rozzi, a cui sono molto molto riconoscente perché non soltanto ha corretto il mio itagnolo quando scrivo, ma anche ha corretto tante cose che mi mancavano, abbiamo pubblicato due cose insieme, una cronotassi di tutte le lettere di Don Milani che io da che avevo fatto la tesi di dottorato a Salamanca molto presto curavo di insegnarmi tutte le lettere che comparivano qua e là, uno in una rivista, uno in un giornale e allora avevo preparato una grande cronotassi che poi ho finito con lui e dopo mi è venuta in mente l'idea che Don Milani che era pittore e disegnava bene eccetera, chissà se lui ha disegnato un po', ha messo la mano di artista in questa, come si dice, in questa mappa della Palestina, non è mappa, cartina, in questa cartina della Palestina che lui ha comprato in Germania e l'ha portato a Calenzano e poi a Barbiana. E allora incuriosito per questa carta della Palestina, bellissima fra l'altro, ho fatto uno studio abbastanza profondo alla misura delle mie possibilità e lui mi ha aiutato moltissimo. Questo mi ha portato naturalmente di nuovo sul catechismo di Don Milani che sapevamo tutti che lui non l'aveva proseguito, non l'aveva finalizzato, però che invece lui ha continuato fino a fin di vita tutte le domeniche prima della messa alle undici più o meno che celebravano a spiegare il Vangelo con la cronotassi di padre Lagrange, un grande biblista di allora eccetera e con tutti i ragazzi della scuola eccetera eccetera. Allora la curiosità per il catechismo mi è venuta fortemente diverse volte nella mia vita. Però non era previsto introdurre il catechismo nell'opera omnia, vero? È proprio così. Cioè grazie a me, e io mi sono molto grato per questo, sono andato a Meloni un giorno che era a Bologna, ho chiesto lì in portineria, potrei parlare col padre eterno, dico col padre eterno con Meloni, il padre eterno viene chiamato carinosamente, non lo so, con grande amore da Giorgio Pecorino, lo chiamo il padre eterno a Meloni. Sicuramente lo è perché è famosissimo. e ho chiesto e mi hanno detto sì 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 che può salire. Sono andato là, l'ho trovato in un ufficio di niente pieno di libri, come era ai miei tempi quando ho incominciato a fare la ricerca della tesi all'istituto della fondazione per le scienze religiose. Senti Meloni, io non capisco perché non mettete il catechismo dentro l'opera omnia, perché è stato già pubblicato da Michele Gesualdi, l'alunno. C'è un libro che c'è scritto lì, Lorenzo Milani, catechismo. Dunque ora non portarlo, no sì, però hai ragione e così abbiamo anche il catechismo. Un po' dissimulato perché entra dentro di un settore dove si parla delle altre opere o qualcosa, sono altri scritti. Però è veramente come ha detto lui ora, il Rozi, è il suo primo testo, no? È un testo importante. Bene, io vi racconterò qualche particolare di questo testo perché vediate cose che credo che non si sanno normalmente perché era quasi alla fine della possibilità di inserirlo o non inserirlo nell'opera omnia. Questo mi ha fatto pensare, e non soltanto questo, tante altre cose, che in Don Milani, in questi cinquanta anni, ci sono state due facce assolutamente diverse. Una era la faccia del pedagogista, comprensibile da chi fosse credente o non credente, cattolico o ateo, se ci sono gli atei, perché è complicato vivere senza credere a qualcosa. Questo non lo dico come credente, lo dico come tentato dall'atteismo tutti i giorni. Dunque c'è quella faccia lì dell'interpretazione di Don Milani come un uomo laico, che ha proposto una scuola laica e che l'ha fatta laica. E invece un'altra fascia dove c'è il prete che ha anche certe idee teologiche profonde, eccetera, eccetera. Ora sentirete, se non l'avete già sentito, una cosa che a me mi elettrizza proprio, che sarebbe non si capisce nulla di Don Milani senza il suo sacerdozio, non si capisce nulla di Don Milani senza sapere che era un credente. Senza la fede di Don Milani non c'è Don Milani. Ma a buon'ora, dopo che la Chiesa non l'ha voluto, non l'ha studiato, ha ritirato il libro delle esperienze pastorali, ora andiamo alla riconquista di Don Milani e soprattutto all'esclusione di tutti quelli che l'hanno tentato di interpretare e di studiare senza la fede. Mi fa una rabbia tremenda, perché è merito suo, è merito dello stesso Don Milani avere scritto questi due volumi che ora abbiamo qui, con quella capacità laicale di essere capito da quelli che non hanno la fede e lo capiscono uguale. Qual è il mistero? Dove siamo? Dove siamo? Sentì con un po' di paura le prime parole del Papa quando ha detto alla fiera di Milano del libro alla fine di aprile che Don Milani probabilmente per la sua educazione laica aveva imparato a parlare in un modo che scandalizzava ai vescovi, scandalizzava alla Chiesa eccetera eccetera, quasi quasi come se fosse questa educazione sua, prima di diventare credente, un difetto. Siccome poverino da piccolo ha sentito soltanto a casa sua un discorso laico, allora si sente la mancanza, ma secondo me si sente il valore di una fede che può essere assolutamente umana. Come ha detto Papa Paolo VI in qualche occasione, se il cristianismo non è umano, non è cristianismo. E allora possiamo farlo dall'insù all'ingiù o dall'ingiù all'ingiù, che come lo fa Don Milani, cioè lui parla talmente dell'umano che fa possibile Dio. Non si può parlare di Dio senza prima capire bene l'umano che ce l'avevamo qui davanti. Questo mi sembra molto molto importante. Allora quest'opera religiosa, un catechismo, avanzava un po' nell'interpretazione del Milani laico, del Milani pedagogista. Non succedeva nulla se non si pubblicava. Non so se l'hanno pensato così o semplicemente hanno creduto che un'opera che l'autore rifiutava, è un'opera sua e viene rifiutata, meglio non ripubblicarla. Però dopo fortunatamente ce l'abbiamo. Dunque dirò quasi telegraficamente alcune cose che io ho imparato del catechismo. Prima cosa, mentre lui scopriva personalmente e denunciava l'ingiustizia sociale, nei primi articoli, qui abbiamo visto uno, quello di Franco, perdonaci tutti, eccetera, a proposito del lavoro, mentre faceva questa grossa scoperta, nel primo dopoguerra, è stato ordinato nel 47, nel 48 ha avuto la grande sconfitta della sua vita, che è stata la vittoria della DC il 18 aprile del 48, eccetera, eccetera, che ha messo i poveri in mano dei cristiani, che erano quelli che comandavano l'Italia, e in quel momento lì, così forte di impressioni sacerdotali per un neofita, eccetera, eccetera, lui ha lavorato con passione e moltissimo sforzo personale durante quasi quattro anni, dal 1948-49, quel corso scolastico, fino al 1951, e ha cominciato a spiegare ai bambini il catechismo che lui ha inventato, forse c'erano già in diversi paesi del mondo tentativi di fare un catechismo per i bambini che avesse conto della vita di Gesù, meno male, sembra una cosa normale, però è difficilissimo. Io quando facevo questo studio ho raggiunto un famoso storico della catechesi spagnolo, Resines, che abita a Valladolid, e lui è un sacerdote, nipote di un vescovo, grandissimo catecheta, dice, mio zio, mi disse Luis Resines, mio zio diceva che per insamblare, non so come si dirà in italiano, si mettere insieme, per me, grazie, ho un'assessora per me, grazie, non per il comune soltanto, anche per me, allora, per mettere insieme la dottrina della chiesa e la vita di Gesù, occorre o slegare la dottrina, il libro della dottrina, o slegare il libro della vita di Gesù, il Vangelo. È difficilissimo mettere insieme tutte le due cose. E questa era la passione di Don Milani, trovare la dottrina e le formule incastonate, dice lui, via via al tempo e luogo storico in cui sono state rivelate. Lui aveva questa passione, vedere nella propria vita di Gesù, nella stessa vita di Gesù, come nascevano le verità del cristianesimo. E allora non avremo, se si fa così con i bambini, questa realtà fra i nostri fedeli, diceva lui, che conoscono la vita di Gesù in un modo saltuario, desconectato, inconnesso, cioè senza ordine, eccetera, eccetera. Dunque ha avuto una grandissima passione per questo lavoro, veramente interessante, moderno, come tutto quello che faceva. Contemporaneamente il cardinale di Firenze, allora Monsignore Elia Dallacosta, stava facendo un grosso movimento di rinnovamento della catechesi nella sua diocesi. Si chiede a Milani, cantava fuori coro quasi sempre, poverino, no? Perché quando con questa idea brillante di fare un catechismo che si vede se la vita di Gesù si imparasse sul Vangelo, questo non era veramente l'indirizzo della curia diocesana. Ha chiesto l'aiuto contemporaneamente ad altri colleghi preti, sia per informarsi di altri catechismi simili in Italia o all'estero, sia per verificare ogni singola lezione delle 28-30 che oggi conosciamo. Ma soprattutto ha fatto una cosa interessantissima, è già stata ramentata, che era raccontare ai ragazzi una scena del Vangelo, raccontata bene a scuola, e poi farle ai bambini scrivere un ressoconto di questa storia. Lui portava in camera sua questi ressoconti e li incastonava insieme, li metteva uno accanto all'altro, prendendo questa frase qui che è brillante di Pierino, e quest'altra di Gianni, e quest'altra, e allora faceva lui un testo collettivo. E qui abbiamo visto molti che c'è un po' l'inizio della scrittura collettiva, che poi farà in un modo molto diverso dopo l'incontro con Mario Lodi, eccetera, a Barbiana. Però è molto interessante questo sforzo. Non so come hai fatto con le... Stai passandole? Allora avete già visto la pubblicazione del catechismo. Sì, sì, va bene. E lì dentro si trova anche in questo catechismo pubblicato da Michele Giesualdi, che ha creato tanta protesta. Ricordo un articolo durissimo di Giorgio Pecorini, precisamente dicendo lui l'ha rifiutato. E non soltanto ha rifiutato la pubblicazione del libro, lui ha rifiutato far catechismo, perché nelle esperienze pastorali lui ha trovato che la catechesi infantile non lascia niente dopo quando le persone si fanno adulte. Io quasi quasi direi, e alle volte lascia delle orme che sono contrarie a quello che ci voleva. E lì c'è un problema grossissimo della pedagogia della religione che continua sempre quasi quasi uguale. Tranne i numeri che ora sono calati, i numeri di quelli che vanno e frequentano questa catechesi, non siamo riusciti a veramente intervenire di un modo pastorale adulto. Milani in quel momento lì, nelle esperienze pastorali si può leggere, ha preferito alla catechesi infantile la scuola per i ragazzi adulti, cioè di 14 anni in su. Dice quella famosissima frase che a me mi ha fatto tanto pensare, tutto si riduce a, come si dice in italiano, tutto si riduce a inchietarlese l'alma, cioè a perturbarli l'anima, a turbare, grazie, a turbare l'anima. E tutto si riduce a turbare l'anima ai ragazzi, non tanto di adottrinare, di mettergli una fede. Bene, e poi si è servito di diversi strumenti ausiliari, primo la relazione infantile, poi foto moderne, ha collegato con un paio di fratelli che erano fotografi a Firenze e gli chiedeva fotografie moderne per illustrare la vita di Gesù, non voleva scene del massaccio, dipinte nel libro, diceva che i contadini non distinguono le immagini artistiche nemmeno di una fotografia, i contadini di allora c'era molta meno immagine, non c'era la televisione, eccetera, eccetera, e allora preferiva le fotografie moderne. E poi soprattutto la bellissima carta tedesca della Palestina. Credo che una delle cose più belle che abbia fatto intorno al catechismo, la conoscete senz'altro, è quella specie di bozza di una sceneggiatura cinematografica per un regista famoso che era Maurice Clos, francese. Prima aveva tentato con un italiano che era Genina, che aveva fatto anche un film premiato in Italia, eccetera, ora non ricordo i nomi, continuo. Che ha fatto sulla carta della Palestina? Possiamo vedere la carta qui che è del 1933 e lui l'aveva vista e temeva che fosse stata distrutta per la guerra. Allora ha fatto un viaggio a Germania per levarsi di mezzo alle elezioni che si facevano in quel momento in Italia per raccomandazione del Cardinale, eccetera, tutto il motivo ora si è visto, no? Con il libro di Michele Giesualdi, tutto il motivo dell'allontanamento di Don Milani da Calenzano e la cacciata via lì a Barbiana dipende dalla posizione politica di Don Milani che non era una posizione definita contro la democrazia cristiana, contro questo qui, era salvare la faccia della Chiesa dell'orrore di dire ai feligresi che dovevano votare liste nelle quali c'erano abbinati democrati cristiani e anche liberali o altri che poi a livello locale erano persone note per la sua ingiustizia nel lavoro e per tante altre cose. Dunque il temore ai comunisti ha fatto sì che Don Milani la stessa cosa succedeva con Don Mazzolari guardate il significato del viaggio del Papa io capisco che ora dicano che questo Papa è un riconciliatore dei comunisti è l'insulto che li fanno cerca di nuovo va bene dunque è andato in Germania e ha cercato questa cartina del 1933 anteriore alla guerra io l'ho trovata questa fotografia l'ho fatta io dall'internet in un museo della Germania passa per piacere gli volevano dare una del 1950 che a lui non ha piaciuto evidentemente molto più grossolana nei disegni eccetera più grande e lui ci teneva l'altra e l'altra gliel'hanno potuta fare avanti grazie qui abbiamo una scena parziale del lago di Genesaret e se vedete qui c'è un paralitico di una guarigione che viene raccontata nel Vangelo e dietro al paralitico si vede una casa e basta una casa bella una casa grande avanti non Milani su quella casa ha inserito il numero 55 non ha toccato la carta della Palestina niente assolutamente nulla tranne in quel punto lì ha messo un numerino in più cioè nella carta tedesca abbiamo 106 scene della vita di Gesù nella carta italiana che lui ha tradotto eccetera l'ha fatta per il suo paese Calenzano ne abbiamo 107 quando l'ho visto dico ma dove dove quale sarà percorrendo tutto vedo ma è il 55 e che vuol dire il 55 la sinagoga del discorso duro perché è quando Gesù nella sinagoga di Cafarna dice chiaro e tondo che bisogna mangiare il suo corpo e la gente comincia ad andarsene anche voi volete andarvene e dove andiamo te almeno c'hai parole di vita eterna quel discorso duro veramente raccontato da Giovanni è proprio il numero 55 che lui l'ha inserito con quella finezza di non toccare altro ha fatto qualche altro ritocco nell'ordine nell'ordine delle scene ci teneva molto madonna quanto ha lavorato per vedere come è andato Gesù prima a Galilea poi al territorio siriano poi qui poi là perché nei Vangeli non si capisce nulla tutto è mescolato guardate che i tre sinottici parlano di un soltanto viaggio di Gesù a Gerusalemme mentre Giovanni parla di tre o quattro almeno perché si confonde ecco qui secondo me modestamente uno dei motivi per i quali Don Milani ha deciso di non continuare avanti col catechismo cioè si è reso conto che era un desiderio impossibile dietro di questo rendersi conto che è un desiderio impossibile c'è una grossa questione che noi sappiamo tutti credo che sarebbe la distanza fra il Gesù storico e il Cristo della fede qui si apre un mondo di considerazioni teologiche io ho presentato la tesi di dottorato nel 1980 dopo quasi sei anni di lavoro di tanti lavori non mi dedicavo esclusivamente alla tesi e lì ho visto che la fede di Don Milani è complicata e c'ha una prepotenza del Dio creatore enorme e il Cristo compare molte volte come un profeta un grandissimo profeta il figlio tutto quanto però sempre in un piano diverso parla pochissime volte nelle lettere di Dio scusate di Gesù Cristo parla molto più di Dio sembra un ebreo in questa forma qualcuno ha detto qualcuno ha detto che Don Milani ha residui della fede materna dell'ebraismo è molto complicato però veramente nel catechismo lui ha una razionalità tale che non si ha detenuto non ha pensato mai nel testo che abbiamo che la fonte dei quattro Vangeli la fonte principale è la fede degli evangelisti cioè questi evangelisti nel contatto con quel Gesù soprattutto nella morte di Gesù hanno capito che c'era il figlio di Dio consegnato agli uomini e allora raccontano la storia del Gesù storico dal punto di vista del credente questa scelta difficilissima fa sì che si deva dire che una fonte del Vangelo è la fede senza quello era difficile scrivere insomma tante altre cose ma mi sembra che ho preso troppo tempo grazie grazie grazie